C'è il sospetto che si sia esposto fuori dal finestrino con l'auto condotta dall'amico a velocità sostenuta e sia stato sbalzato fuori violentamente. Forse chissà perché è seduto sullo sportello. Egidio Antonio Robortaccio, 25 anni, è morto all'alba di stamani in via Gandhi a Foggia. L'autista della Ypsilon, sulla quale viaggiavano i due, si è fermato ed ha chiamato subito ai soccorsi, ma il ragazzo è morto sul colpo. Oltre i sospetti e le ipotesi, la dinamica dell'incidente è tutta da accertare. Il conducente dell'auto è stato sottoposto al test di alcol e droga. Sarebbe davvero increscioso se si dovesse registrare la perdita di una vita così giovane per una bravata. Le indagini sono condotte dalla polizia locale di Foggia.